La decima di andata riserva due trasferte marchigiane per Campobasso e Di Serna, impegnate rispettivamente a Castelfidardo e Iesi, la gara interna contro la Miternina per l'Olimpia agnonese. Nel pomeriggio di ieri la società Russo Plus si è vista accogliere il ricorso avverso le otto giornate di squalifica a Boldrini. Il centrocampista ha avuto uno sconto di quattro turni, due già sono stati scontati, va da sé che Boldrini tornerà disponibile per la gara interna contro il Monticelli del prossimo 15 novembre. A Castelfidardo mancherà pure Carminucci per l'ultima delle due giornate di squalifica, ma rientra Ferrani, arruolabile già dalla Coppa Italia così come Aquino. I lupi tenteranno di violare un campo quest'anno mai espugnato, i marchigiani non sono certo una corazzata in attacco, appena nove gol fatti. Di contro però non hanno nemmeno una difesa con la Brodo, sempre nove gol, ma stavolta al passivo. Occhi da tenere addosso all'attaccante classe 96 Di Federico, già autore di due golle, alla punta argentina Santiago Minella. Cappellacci dovrebbe confermare gli attaccanti Bucchi, Alessandro e Fiore, mentre rimane fuori dai ranghi Todino per motivi di carattere familiare. Il tecnico di Tortoreto non dovrebbe mandare in campo una formazione troppo diversa da quella Corsara nel derby di una settimana fa. Rimane da valutare con attenzione Ferrani, uscito dopo circa un'ora della gara di Manfredonia. Dovesse partire da titolare, verrebbe affiancato da Gattari. Da mettere in rilievo che l'iniziativa dei tifosi rosso-blu di raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate del Sannio ha avuto un discreto riscontro. Domenica scorsa, infatti, sono stati messi insieme poco più di 1000 euro devoluti a Benevento e provincia. Un plauso ai tifosi del Campobasso per la solidarietà dimostrata. L'Isernia vuole buttarsi alle spalle la sconfitta contro la Samb che però ha portato a delle conseguenze dei carattere disciplinare come le squalifiche per due turni di Saltarin, per uno di Ruggeri e per due dell'allenatore De Bellis. In ogni caso il passaggio ai 32esimi di finale di Coppa Italia d'Anni dell'Agnone ha certamente portato una ventata di morale in casa dei Pentri. Tornerà dall'infortunio Sabatino immediatamente in campo a Iesi. Dubbio per Cantoro che potrebbe strappare un posto da titolare dopo la buona prova con gol due giorni fa in Coppa. Alcarotti ha vinto solo il Campobasso in un clima di contestazione nei confronti della squadra. Pare che le cose si siano rasserenate nella provincia di Ancona. Prova tangibile ne è pure la vittoria di due settimane fa ai danni del Fano. Intanto a Isernia si coccolano Panico, autore di sette delle nove reti complessive dei Pentri. Per lui c'è pure il primo posto nella classifica Cannonieri condiviso a quota sette con Dos Santos del Chieti e Margarita del San Nicolò. L'Agnone ha urgente bisogno di alimentare la propria classifica. Quella contro la Miternina suona come partita salvezza tenuto conto dell'ultimo posto degli abruzzesi. Distante però solo un punto proprio dall'Olimpia agnonese. Nel quadro degli incontri della decima di andata spicca San Nicolò. Fano decisamente il match clou mentre la capolista San Benedettese sembra avere un turno sulla carta bordabile al Riviera delle Palme contro il Giulianova. Grazie.